La legge elettorale, nonostante questo sgambetto, che fra l'altro forse ci impedirà di fare la riduzione del numero dei parlamentari, che era la vera norma da far passare nella riforma costituzionale, quindi sono irritato, dico anche però che con questo io non intendo sottrarmi, anzi incalzo per una legge elettorale. Legge elettorale, allora sì, per noi c'è il doppio turno di collegio, è la proposta migliore, però con questo non ci rassegniamo, visto che non lo vogliono, a tenerci il porcello. Abbiamo messo semplicemente due paletti due, il primo è quella sera lì gli italiani e non solo gli italiani, anche chi ci guarda nel mondo, deve sapere che ci sarà qualcuno che governerà, quindi ci vuole un ragionevole premio di governabilità, perché se no quella sera lì arriva lo tsunami. questi della destra che hanno votato il porcellum che è iper, iper, iper premiale, adesso pare che non vogliono più premialità per il primo che arriva, neanche un po', forse pochino. Seconda cosa, un cittadino deve potersi scegliere il suo parlamentare e per noi vale un meccanismo, è preferibile, largamente preferibile, un meccanismo impegnato sui collegi, perché se stai nel territorio c'è la ragionevole fiducia che il cittadino possa conoscerti e che si possa stabilire un legame fra eletto e cittadino anche stabile nel tempo, con un buon beneficio per il rapporto cittadino-democrazia. Con questi due paletti ci sono n soluzioni, siamo pronti con questi due paletti a varie soluzioni, aspettiamo, sentito Alfano che dice andremo, noi siamo pronti domani mattina, già in agosto, a passare in Parlamento, in una commissione con una prima votazione su una nuova legge elettorale. Non lo so. Già qualche mese fa ce l'avevate promessa, segretario, abc. No, no, ma io le mie promesse le mantengo, le mie le mantengo, ho detto che saremmo stati pronti, ci sono 5 o 6 soluzioni che credo siano potabili se intendono farle anche per loro, siamo pronti a discutere, aperti, flessibili su quei due paletti che non mi paiono sensati, mica per il PD, per l'Italia e quindi noi siamo pronti a chiudere. sento dire che sono pronti anche loro, ecco, aspetto notizie, nelle prossime ore aspetto notizie.